Siamo in provincia di Treviso, oggi è stato sottoscritto il protocollo per la coesione territoriale tra la provincia di Treviso e la Fondazione Opera Montegrappa. Presidente, quale è il significato di questo protocollo? La continuità di una collaborazione importante con la Fondazione Opera Montegrappa, soprattutto nell'interesse della formazione di tanti giovani che hanno la necessità di avere un futuro sicuro. Il significato di quello che in più può portare una rete, mettere insieme le menti, le energie in mezzo a disposizione per il bene della nostra gente. Chi da parte della Chiesa, chi da parte dell'amministrazione, riteniamo che la sinergia sia il cavallo vincente per dare una mano a chi ha problemi di lavoro. Assessore? Sicuramente è un atto importante il tradurre in fatti quello che si chiama far gioco di squadra. Questo rapporto tra pubblico e privato tra un'entità territoriale importante come CFP Montegrappa e la provincia di Treviso attraverso le proprie competenze e le proprie deleghe, anche per quanto riguarda il lavoro e la formazione, sicuramente sapranno dare delle risposte importanti in un momento difficile come questo. La mano, Don Roberto? Eccocci. Grazie. Ancora.